Palazzetto dello sport, bello, bellissimo però, non tutto è oro quel che luccica. Sì perché a Vicenza il lifting voluto dall'ex amministrazione di centrodestra sta volgendo al termine. I lavori di riqualificazione energetica e il rifacimento della pavimentazione sono già molto. C'è però un altro fronte su cui sarebbe necessario adoperarsi. A guardar bene, negli spogliatoi infatti ci sono problemi di umidità che andrebbero risolti con un ulteriore intervento. A lanciare l'allarme l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Sicuramente le immagini degli spogliatoi non danno una bella immagine di Vicenza e dell'ospitalità in campo sportivo. Occorre che l'amministrazione investa di più sulle strutture, non abbiamo ancora contezza di investimenti dopo un anno e mezzo di amministrazione possa mai. Aspettiamo che finalmente si vedano qualche risultato concreto. In effetti le squadre vicentine di basket e di volley torneranno a giocare nel palazzetto dello sport. Per questo il centrodestra chiede all'amministrazione di centrosinistra di non fermarsi al cantiere già finanziato con i fondi PNRR. Per sistemare gli spogliatoi servirà un ulteriore intervento, ovviamente con un aumento dei costi che però potrebbero essere coperti con risorse economiche del comune. Questo è l'ospicio, avendo un cantiere in atto, la possibilità che si possa fare un intervento di manutenzione ordinaria, magari tramite AMCPS, che è l'azienda municipale del comune, che si svolge anche all'interno attraverso i lavori di ordinaria amministrazione in house e quindi può lavorare a stretto giro anche in tempi molto brevi con risorse anche limitate. Quindi un invito all'amministrazione a fare questo sforzo in più e a chiudere il cantiere con la manutenzione ordinaria degli spogliatoi. Grazie a tutti.